Gamba sinistra. C'è Rinaldo che fa il centravanti adesso, aspetta il cross. Eh sì, Maggio. Di testa, il pareggio di Dennis! Incredibile, 2-2! Incredibile, incredibile quello che è successo stasera qua a San Paolo. In area di rigola abbiamo visto il Milan soffre, soffre terribilmente. Il gioco portato all'esterno, con palloni messi dagli ultimi 16 metri, ha messo in crisi la difesa del Milan. Con tanti giocatori dentro l'area di rigore, i difensori non sapevano più chi marcare, centrocampisti non avevano più punti di ritenimento e il Napoli ha pareggiato. Partita stranissima, tutto all'inizio e tutto alla fine. E ora mancano due minuti. E chissà che Napoli, insomma, possa provare a vincerla questa partita, grandissimo Dennis qui. Sul cross di Maggio, anticipa Tiago Silva e mette il pallone in porta. Beh, in base a quello che abbiamo visto in questo secondo tempo, è meritato. Noi ricordiamo che Dida ha praticamente salvato almeno due minuti. Grazie. 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 Grazie.